Buongiorno a tutti e vi do il benvenuto, sono Michele Bettazza della Zucchetti Hospitality, insieme a me è la mia collega Nazarena. Vi ricordo di tenere le fotocamere e il microfono disattivato in modo da lasciare una fluida presentazione. Nazarena, se vuoi fare un saluto, poi... Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie della partecipazione e spero che apprezzerete quello che avremo da dirci oggi pomeriggio. Bene, iniziamo subito, parto condividendo il schermo per presentarvi quella che è l'offerta del mondo Zucchetti Hospitality. Come sapete Ericsoft fa parte del gruppo Zucchetti, la Zucchetti ha un'offerta molto vasta e articolata. Abbiamo digital concierge, web check-in, accessi automatizzati, centro benessere, food and beverage, ERP, contabilità, revenue management e CRS. Naturalmente nella parte centrale troviamo quelli che sono i gestionali, i PMS del gruppo. Ogni soluzione ha i propri punti di forza e il proprio target di riferimento. Questi prodotti ci garantiscono l'esperienza dei migliori clienti sul mercato e la possibilità di adattarci alle esigenze specifiche di ogni singola struttura con competenze verticali. Non un unico strumento che si adatta un po' a tutto, ma lo strumento e le competenze specifiche adatte a quella che è la singola esigenza. Oggi parleremo di revenue management e nella parte finale sposteremo il focus sui nostri revenue management system, Rateboard e Libra, entrambi interfacciati al vostro gestionale Ericssoft. Andiamo a vedere un po' gli argomenti che tratteremo nel webinar di oggi. Intanto faremo una panoramica su quello che è il revenue management, quelle che sono le condizioni necessarie all'applicazione, alcune leve del revenue management. Andremo a chiarire quelli che sono i principali indicatori chiave per misurare le vostre performance. A sfatare, cercheremo quantomeno nei limiti di possibile, sfatare qualche mito su quello che è il revenue management e poi parleremo un po' di come si può iniziare a praticare questa disciplina e qualche prospettiva sulla situazione attuale di mercato. Io lascerei la parola direttamente a te Nazarena per la parte iniziale. Perfetto, grazie mille Michele dell'introduzione. Io inizierei entrando nel vivo della chiacchierata di oggi, partendo però dall'origine, quindi innanzitutto a dare una definizione del revenue management. Quindi cos'è il revenue management? Bene, allora il revenue management è una componente della gestione aziendale, in modo particolare quella che si occupa della gestione dei ricavi e in questo senso punta ad ottimizzare l'occupazione e la tariffazione con l'obiettivo finale ovviamente di aumentare il fatturato. Abbiamo individuato 5 obiettivi principali del revenue management che poi alla fine costituiscono quella che è la normale, la più applicata definizione di revenue management. Quindi gli obiettivi del revenue sono quelli di vendere il prodotto giusto, quindi in questo caso specifico la giusta tipologia di camera, a giusto prezzo, che deve essere ovviamente il prezzo di mercato, nel momento opportuno, al cliente adatto e qui dovremo necessariamente parlare di segmentazione, più avanti nella nostra presentazione, attraverso il giusto canale. Quindi in questo caso specifico parleremo di distribuzione delle nostre camere. Prima di addentrarci all'interno di questi valori fondamentali, quindi prima di parlare nello specifico di prezzo, di distribuzione, di segmentazione eccetera eccetera, facciamo per un momento un passo indietro e andiamo ad individuare quelle che sono le condizioni fondamentali affinché possiamo applicare una strategia di revenue management alla vendita delle nostre camere. Perché è importante fare questo tipo di considerazioni? Perché in realtà ci renderemo contro che queste strategie di revenue management che noi applichiamo per la vendita delle nostre camere, in realtà le possiamo applicare anche per altri settori dell'hotel, magari più avanti appunto diremo quali sono. Partiamo dalla prima condizione fondamentale, la capacità fissa. Facciamo l'esempio pratico di un aereo. Un aereo ha un certo numero di posti, se è pieno non è ovviamente più disponibile alla vendita. La stessa cosa vale per l'hotel, ha una capacità fissa, c'è un determinato numero di camere da vendere, alti costi fissi e bassi costi variabili. Cosa intendiamo? Proviamo ad immaginare quanto ci costerebbe costruire da nuovo un hotel, moltissimo. Quanto ci costa però vendere una camera in più del nostro hotel? Se ci pensiamo abbiamo già la camera, abbiamo già il personale, quello che rimane da coprire sono i cosiddetti costi variabili, i costi legati ovviamente all'utilizzo della camera, le amenities eccetera eccetera. Si tratta appunto di costi variabili relativamente bassi. In situazioni come queste, quindi alti costi fissi e bassi costi variabili, il revenue management può effettivamente aiutare a migliorare i nostri profitti, senza però aumentare in maniera importante le spese. La terza condizione è un inventario deperibile. Lo sentiamo dire molto spesso, se non vendiamo la camera stasera di fatto è persa. Questo significa che io non posso mettere la camera di oggi in vendita sul mio inventario di domani. Ovviamente la camera è andata. Prenotazioni in anticipo. Questo è anche un aspetto molto importante ed è un aspetto interessante perché nel momento in cui le mie prenotazioni arrivano in anticipo, di fatto io le posso gestire. Posso anche decidere ad esempio di accettare o meno quella prenotazione, facciamo l'esempio concreto ad esempio dei gruppi, nell'ottica di scegliere le prenotazioni che aiuteranno l'hotel a massimizzare le proprie entrate a lungo termine. La variabilità della domanda, lo diciamo sempre, ci piace però ripeterlo. La domanda è variabile. La mia alta stagione può essere nei mesi estivi e la mia bassa stagione può essere nei mesi invernali. Così come può essere vero il contrario. Così come posso andare a vedere una variabilità della domanda all'interno della mia stessa settimana o addirittura all'interno delle mie stesse ore del giorno. Quindi è importante seguire questa flessibilità della domanda. La terza condizione è la sensibilità al prezzo. Quindi arriviamo alla domanda cruciale. Quanto sono sensibili al prezzo i nostri clienti? Alcuni clienti non lo sono affatto. Devono necessariamente arrivare in una determinata data, vogliono prenotare una determinata tipo di camera e quindi di fatto non è molto importante per loro il prezzo. Non sono price sensitive, sono time sensitive. Allo stesso tempo però c'è una bella fetta di mercato e di clienti che non arriverà mai nel nostro hotel fino a quando non adattiamo alle loro esigenze appunto il nostro prezzo. E qui è dove effettivamente parliamo di sensibilità al prezzo. Queste sono appunto le sei condizioni principali e come dicevo all'inizio sono di fatto generalmente utilizzate nella vendita delle nostre camere, quindi in modo particolare nel room revenue. Ma è soltanto una delle tante applicazioni che possiamo fare rispetto appunto al revenue management all'interno del nostro hotel. Di fatto Zacca hai toccato il tasto. Quali potrebbero essere secondo te gli sviluppi futuri del revenue management all'interno delle strutture risettive? Perfetto. Allora dove potremmo applicare di fatto questi principi fondamentali del revenue management all'interno del nostro hotel? Praticamente quasi in ogni suo settore. Sicuramente al ristorante, sicuramente nelle nostre aree benessere. Consideriamo il ristorante, cosa praticamente stiamo vendendo? I tavoli. Pensiamo alla capacità, è fissa, ho un certo numero di tavoli da riempire, alti costi fissi e bassi costi variabili, senza alto. Ho un inventario deperibile, per cui se il tavolo non mi viene occupato stasera di sicuro non lo posso mettere in venti da domani. Le prenotazioni mi dovrebbero arrivare più o meno in anticipo, comunque sono in grado di dire se ho il tavolo disponibile oppure no. La domanda è estremamente variabile. Pensiamo a quanto è richiesto il mio tavolo il sabato sera piuttosto che il lunedì sera. Allo stesso tempo c'è una forte sensibilità al prezzo, quindi i principi di revenue management sono assolutamente applicabili anche al ristorante, così come lo sono nei nostri spazi spa. Basta pensare cosa stiamo vendendo. Stiamo vendendo tempo. Tempo che gli ospiti verranno a spendere nelle nostre camere, tempo che gli ospiti verranno ad occupare i nostri tavoli oppure piuttosto le nostre aree benessere o i nostri campi da golf. Quindi le possibilità di adattare una strategia di revenue management all'interno di una struttura ricettiva sono veramente moltissime. Grazie del chiarimento. Un piacere. Andiamo a questo punto avanti parlando di due leve principali del revenue management, quindi andiamo a vedere appunto quali sono gli aspetti principali del revenue management e che riusciamo appunto a gestire. Sono soltanto due delle quattro principali leve del revenue management che in qualche modo però sono quelle che riusciamo a controllare in maniera più diretta e sono la durata oppure l'end of stay e il prezzo. Faccio appunto questa piccola premessa perché le leve del revenue management in realtà sono più di due, ma per motivi ovviamente di tempo e anche di mantenere questo primo webinar abbastanza a un livello base, ci concentriamo su queste due leve principali, poi eventualmente in futuro avremo modo di approfondire anche le altre leve principali del revenue management. Ascenniamo almeno quali sono, dai, per non lasciare il suspense. Ok, le altre leve principali del revenue management sono ovviamente la distribuzione di cui parleremo, ma ovviamente brevemente, bisognerebbe fare un webinar di un'ora soltanto sulla leva della distribuzione e questo perché di fatto la decisione su come gestire l'inventario in hotel è tanto importante quanto la decisione sui prezzi. Cioè nel momento in cui stabilisco come voglio vendere le mie camere, con quale anticipo, su quali canali, quello è un momento decisionale estremamente importante. Quindi la gestione del mio inventario, nello specifico la distribuzione del mio inventario sui vari canali di vendita è una leva fondamentale del revenue management. Così come è una leva del revenue management ovviamente anche la brand reputation. Come sappiamo siamo fortemente influenzati da quelli che sono i punteggi sui principali portali di feedback. Quindi anche questo è un aspetto che il revenue management deve tenere in considerazione. Concentriamoci però per il momento su queste due leve che sono sicuramente importanti e che sono anche le più semplici da gestire da un certo punto di vista. Allora partiamo con la leva della durata perché è così importante parlare di durata. Diciamo che affinché una strategia di revenue management abbia successo il revenue manager deve essere in grado di ridurre l'incertezza della durata. Cioè in altre parole deve essere in grado di gestire i giorni di arrivo di partenza e la durata del soggiorno. Quando parlo di ridurre l'incertezza dell'arrivo, Michele se vuoi scendere passiamo alla prossima grazie. Ok quindi parliamo appunto di ridurre l'incertezza dell'arrivo. In altre parole sto cercando di ridurre il mio tasso di no show. Come posso fare per ridurre appunto questa incertezza? Abbiamo individuato in generale nel revenue management due misure fondamentali, misure esterne e misure interne. Le misure esterne sono quelle che coinvolgono anche l'ospite, quindi sono le misure che coinvolgono l'esterno appunto, il potenziale ospite che dovrebbe arrivare nel mio hotel. Quali sono queste misure? Sicuramente quella di richiedere una carta di credito in garanzia, la possibilità di contattare il cliente per ricordare la prenotazione, questi sono ormai automatismi che si fanno mandando anche una semplice email all'indirizzo di prenotazione, oppure imporre delle penali di cancellazione, quindi le nostre cancellation policy. Sono queste misure ormai largamente diffuse e che di fatto negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto il tasso di no show. Così come potrebbe essere interessante fare dei ragionamenti rispetto a delle misure interne da adottare, cioè delle misure prese internamente dall'hotel, direttamente dal team di management senza coinvolgere almeno direttamente appunto l'ospite esterno. Quale potrebbe essere una misura per ridurre appunto a una situazione del genere, per cui mi trovo magari un alto tasso di no show e automaticamente la mia percentuale di occupazione scende? Sarebbe interessante andare a creare un forecast, quindi una previsione su quello che è il mio rate, no show rate, quindi sul mio tasso di no show e reagire a questo ad esempio con una politica di overbooking. Si tratta di un'applicazione di revenue management molto avanzata, quindi ovviamente non parleremo oggi di questo tipo di attività però di sicuro potrebbero essere interessanti. Pensiamo adesso invece all'incertezza sulla durata del soggiorno, quindi di fatto anche per quanto riguarda la lunghezza di questo soggiorno in qualche modo devo poterlo controllare e anche in questo caso distingo due tipi di misure, le misure esterne e le misure interne. Le misure esterne che convolgono quindi il mio ospite futuro ovviamente possono essere quello di imporre una fee nel caso in cui l'ospite decida di partire in anticipo rispetto alla data che ha prenotato, oppure nel momento in cui si contatta l'ospite per in qualche modo ricordare la prenotazione è buona regola anche ricordare la durata della prenotazione e ribadire poi anche al momento del check in qual è l'effettiva data di check out. Quali sono invece le misure interne? Le misure interne sono ovviamente le politiche di restrizione. L'albergatore infatti può decidere in qualche modo di restringere il soggiorno, può decidere ad esempio di imporre delle restrizioni in termini di minimo lendo stay piuttosto che di massimo lendo stay. In altre parole può dire ad esempio se puoi prenotare nel mio albergo devi prenotare almeno tre notti o quattro notti o sette notti oppure non puoi soggiornare all'interno del mio hotel per più di sette notti o di dieci notti. Si tratta di pratiche molto particolari ricordo che è importante gestire le restrizioni al soggiorno con massima cautela e soprattutto in una condizione di domanda di mercato alta o estremamente alta. Passiamo adesso a parlare della prossima leva del revenue management quindi ovviamente quella del prezzo. La più importante in qualche modo di fatto la gestione del prezzo è ciò che il revenue manager deve fare diciamo in maniera dinamica. Abbiamo detto infatti che il successo proprio di un revenue manager dipende dalla capacità di lavorare con il prezzo in maniera efficace e per fare questo deve essere in grado di controllarlo utilizzando ovviamente un approccio dinamico. I prezzi infatti dovrebbero seguire la domanda di mercato. L'approccio multi prezzo è infatti essenziale nel revenue management. Se gli hotel infatti offrissero solo una tariffa in qualche modo è automatico che vanno a perdere almeno due segmenti di mercato. Quell'ospite che magari avrebbe speso anche di più o l'ospite che invece non arriverà nel nostro hotel fino a quando non incontrerà delle tariffe più basse. Prima di parlare nello specifico di questo andiamo a vedere però quali sono i diversi approcci rispetto appunto alla gestione del prezzo. Il primo che ci auguriamo ormai sia superato è quello di un prezzo a tariffa unica. Cioè ho un'unica tariffa disponibile per tutto il periodo per tutti i miei clienti individuali. Ovviamente vado a parlare soltanto di clienti individuali e non di eventuali clienti particolari come potrebbero essere appunto business piuttosto che gruppi piuttosto che clienti ripetitor. Qual è il secondo approccio? Il secondo approccio è praticamente quello di avere prezzi basati sui costi e questo è il classico approccio dell'attività food and beverage per cui ad esempio il costo della mia cena dipende dalle materie prime di fatto che saranno state utilizzate. Il terzo approccio è quello dei prezzi competitivi per cui fisso i miei prezzi sulla base di quello che stanno facendo i miei concorrenti. In questo approccio potrebbe essere preferibile essere nella posizione di price leader piuttosto che di price follower all'interno del proprio compset. Il quarto approccio è quello dei prezzi basati sulla domanda ed è l'approccio progettato per rispondere alle oscillazioni della domanda. Misura cioè quanto i clienti sono sensibili al prezzo e questi due approcci sono quelli che utilizziamo nel revenue management quindi il terzo e il quarto approccio. Quando parliamo di prezzi competitivi diciamo che possiamo distinguere anche un tipo di posizionamento diverso rispetto appunto al mio compset. Anche qui Michele ti chiedo di scendere cortesemente grazie. Allora perfetto il posizionamento. Abbiamo detto che rispetto ai miei concorrenti posso scegliere varie tipologie di posizionamento. Andiamo ad individuarne qualcuna. Nello specifico ne abbiamo individuate appunto quattro. Lo scheme cosa faccio? Vado ad impostare i miei prezzi sempre più alti rispetto alla mia concorrenza. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di selezionare i clienti in modo di avere magari una clientela con un potenziale di spesa più alto. Per cui se il mio concorrente addebita la camera X diciamo standard a 79 euro io imposterò le mie tariffe 89, 99 eccetera eccetera. La seconda impostazione è il match, il secondo tipo di posizionamento. In altre parole vado a impostare una tariffa corrispondente a quella della concorrenza quindi in questo caso a 79 e un'altra leggermente più alta. Quindi ad esempio se la camera standard viene venduta a 79 la mia stessa tipologia o similare la venderò anch'io a 79 e poi avrò un'altra tipologia magari di caratteristiche leggermente diverse ad una tariffa più alta. Il surround cosa significa? Andare a di fatto offrire un prezzo inferiore rispetto alla mia concorrenza e un prezzo superiore. Nel caso del prezzo inferiore chiaramente vado ad offrire magari la stessa tipologia di camera ma a condizioni diverse quindi legando la tariffa più bassa delle condizioni particolari mentre la mia tariffa magari al prezzo superiore vado ad offrire un'altra tipologia di camera. Il penetrate è il caso specifico di un hotel che sta magari entrando nel mercato e che ha bisogno di penetrare il mercato. Cosa ha bisogno di fare? Normalmente abbasserà i suoi prezzi quindi in qualche modo otterrà i prezzi sempre più bassi rispetto alla concorrenza almeno all'inizio per cui venderà la stessa tipologia di camera standard magari a 69, 59 euro e via dicendo. Bene detto questo arriviamo alla domanda principale cioè chi paga quale prezzo? In altre parole perché dovrei avere clienti disposti a pagare di più per praticamente allo stesso tipo di prodotto cioè per camere d'albergo? Rispondiamo a questa domanda con il concetto di rate fences. Le rate fences sono una sorta di una sorta di diciamo restrizione alla tariffa sono una sorta di recensione alla tariffa che in qualche modo vanno a segmentare il mercato con un segmento di mercato che è disposto appunto a pagare quel prezzo. Le rate fences sono ciò che ci consentono di addebitare prezzi diversi a segmenti di clienti diversi per prodotti simili. In modo specifico distinguiamo due tipi di rate fences, le rate fences dirette e le rate fences indirette. Le rate fences dirette sono quelle che si basano sulle caratteristiche del prodotto per cui io pago di più una camera più bella, una camera più ampia, una camera con vista. Le rate fences indirette sono invece quelle che sono legate alle caratteristiche del consumatore piuttosto che della transizione. Nello specifico infatti possiamo distinguere tre categorie di rate fences indirette che sono consumer, affiliation e transition. Il consumer è ovviamente un tipo di caratteristica legata al consumatore. Pensiamo ad esempio all'età del consumatore quindi ad esempio magari il pensionato piuttosto che alla capacità di spesa dell'ospite quindi magari se sto vendendo delle camera a studenti eccetera eccetera. L'affiliation è il classico caso del mio cliente ripetitor quindi in questo caso specifico voglio tenere per il mio cliente che magari ha aderito al mio programma fedeltà dei prezzi più bassi e nel caso specifico delle rate fences per affiliation. L'ultima è per la cosiddetta transition e sono le caratteristiche come dicevamo legate al tipo di transizione ed è il classico caso di una tariffa flex quindi una tariffa flessibile contro una tariffa not refund ball. Ovviamente la not refund ball sarà una tariffa più economica che andrà ad attirare un certo tipo di ospiti quindi un segmento di mercato che magari in quel momento ha bisogno o è in cerca di un particolare deal quindi in questo caso specifico di un'offerta particolare ovviamente legando però quello che è il prezzo della camera a delle condizioni particolari come in questo caso il fatto di pagare al momento delle prenotazioni. Grazie ai rate fences siamo arrivati a dire che il nostro approccio diventa multirate quindi vendiamo effettivamente un prodotto simile categorie di camere quindi camere d'albergo di fatto a prodotti a segmenti di mercato diversi e a prezzi diversi abbiamo quindi avuto un approccio multirate. Quali sono i vantaggi di un approccio multirate? ovviamente aumentiamo le vendite a quei clienti che abbiamo definito price sensitive perché avremo un'offerta variegata e avremo anche un'offerta quindi una tipologia di tariffa più bassa che di fatto incontra le esigenze di questo tipo di clienti. Aumenteremo anche le vendite a tariffe alle vendite a clienti magari un po più esigenti che in qualche modo cercano un particolare tipo di camera e quindi in questo caso in entrambi le situazioni di fatto stiamo aumentando il fatturato. Il quarto vantaggio che deriva da un approccio multirate ovviamente è una sorta di segmentazione naturale degli ospiti perché è lo stesso ospite che selezionando la tipologia di tariffa che incontra le sue esigenze di fatto andrà ad auto segmentarsi e ci permetterà quindi di soddisfarne le esigenze. Bene fatto questo iter generico su quali sono le leve del revenue management come funziona e cos'è un approccio multirate andrei a vedere insieme alcuni di alcuni indicatori chiave di revenue management quindi andrei a vedere un attimo quelli che sono normalmente i termini più tecnicamente più utilizzati in revenue management sono molto semplici dovrebbero essere magari già assolutamente conosciuti però in alcuni casi ho notato che possono creare un po di confusione allora spendiamo qualche minuto in più proprio per chiarire questi concetti chiave di revenue management. Allora partiamo non su tutto con la percentuale di occupazione che cos'è la percentuale di occupazione di fatto è un il rapporto tra il numero di camere che ho venduto supponiamo oggi quindi le camere che ho venduto oggi diviso per le camere che ho disponibili magari facciamo un esempio pratico Michele ti va un albergo un esempio abbastanza banale adesso speriamo che questo indice sia sotto controllo per tutti l'avete anche nella barra principale di Erics segmentato anche per tipologia di camera comunque in un albergo di 30 camere se oggi ci sono 21 camere occupate naturalmente la percentuale di occupazione sarà del 70%. Perfetto l'ADR quindi il famoso ricavo medio per camera che cos'è anche questo è un rapporto è un rapporto fra il fatturato supponiamo sempre del giorno diviso per le camere vendute. Nell'esempio precedente se il totale prodotto i ricavi camera fossero di 2500 euro naturalmente avremmo una retta media di 119 euro. Perfetto il Rappar qual è la differenza? Anche Rappar appunto è un confronto vado di fatto però a prendere non le mie camere vendute bensì le mie camere disponibili quindi di fatto è un rapporto fra il mio fatturato del giorno diviso per le camere disponibili. Sì anche questo indicatore è molto importante perché ci dà una base di calcolo sulla mia disponibilità massima e quindi nell'esempio precedente il Rappar si sarebbe attestato a 83 euro. Perfetto la booking window che cos'è? Di fatto la mia finestra di prenotazione. La booking window è il lasso di tempo fra una data, la data praticamente rispetto alla quale registro la prima prenotazione per la data futura di arrivo X e la data la stessa data futura di arrivo X. Di fatto è la finestra di prenotazione, di fatto è lo storico delle prenotazioni della data di arrivo X. Perché è così importante la finestra di prenotazione? È importante perché di fatto è dove posso andare ad osservare come si è sviluppata la data, cioè quando ho ricevuto le prenotazioni. Cosa devo notare? Quando si è aperta la finestra, dove ho registrato i picchi di prenotazione, come ho concluso effettivamente la data perché soltanto in questo modo capirò qual è il comportamento di prenotazione dei miei ospiti e potrò anche ipotizzare in futuro che una determinata data X di fatto ha questo tipo di andamento, quindi potrò anche sulla data fare una sorta di previsione appunto occupazionale, andando appunto a vedere come storicamente la data è stata prenotata. Il pick up, che cos'è il pick up? Il pick up è il pace delle prenotazioni, in altre parole è la frequenza delle prenotazioni, quindi volendo fare un esempio più semplice è la quantità di prenotazioni in termini di room nights che ho registrato in un determinato momento, potrebbe essere ad esempio la giornata di ieri, l'ultima settimana piuttosto che il semestre precedente, quindi la quantità di prenotazioni che ho registrato in questo periodo per il futuro, ovviamente in termini di room nights, quindi di pernottamento. L'ultima aspetto che vogliamo chiarire è il cosiddetto OTB, quindi on the book, anche detto B.O.B., business on the book, che cos'è? Di fatto è la quantità anche in questo caso di camere vendute, quindi la quantità di prenotazioni sia in termini di camere vendute che in termini di fatturato che io attualmente sul mio portafoglio per ogni singolo segmento di mercato. Quindi penso che la panoramica sia abbastanza chiara, passerei la parola a te Michele per parlarci un po' di questi falsi minti sul revenue management. Grazie Nazarena, io ti ringrazio per l'introduzione, è stato molto chiaro. C'è qualcuno con il microfono acceso? Grazie. Spesso quello che ci capita, quello che capita a chi si sta un po' affazzando a questa disciplina, soprattutto in un momento come questo, il nostro cliente potrebbe essere infastidito da queste tariffe e sicuramente la dinamicità tariffaria non è più né uno scandalo né un segreto. La maggior parte dei turisti ne sono ormai consapevoli e sono quasi abituati perché non sono gli alberghi che inizieranno ad applicare questa disciplina che è già partita dai voli aerei, i treni, per cui insomma è una disciplina che è molto conosciuta e rodata e tra l'altro alcuni nostri clienti potrebbero trovare anche delle occasioni di risparmio in determinati periodi, in determinate circostanze. E spesso l'altra questione è proprio sempre questo affiancamento tra revenue e tariffe basse. In realtà no, anche se sicuramente come ben diceva Nazarena, una camera non venduta è sicuramente una perdita, ma con un aumento di fattore curato si registra anche un aumento di costi variabili che vanno attentamente monitorati. Quindi sulla base anche di un controllo di gestione si cercherà di ottimizzare quella che era una strategia orientata alla tenuta del ricavo medio. Cosa ne pensi Nazarena? Quanti clienti che hai seguito in questi anni che sono passati da un destino statico ad un destino dinamico senza problemi e migliorando quelle che sono le loro performance? Sì, allora grazie della domanda. Vi racconto magari un po' la mia esperienza. Allora attualmente seguo circa 80 hotel in Italia da nord a sud di tipologie diverse, quindi da catene alberghiere, a piccoli gruppi, a singoli hotel, a conduzione familiare, a bed and breakfast eccetera. Ovviamente ciascuno di questi hotel è una realtà sì e ciascuno ovviamente anche con approcci diversi a revenue management, qualcuno veramente alle prime fasce e qualcuno invece già magari con un'impostazione dinamica delle tariffe. Ovviamente il fatto di approcciarsi poi a un sistema di consulenza, un sistema di RMS anche per il cliente già avanzato rispetto a revenue management ha avuto comunque dei risvolti positivi perché di fatto si ha una risposta immediata a quelli che sono gli stimoli del mercato. Quindi il fatto di avere i propri dati così sott'occhio, il fatto di avere un suggerimento di tariffa dinamico sicuramente ancora di più ha aiutato questi albergatori appunto in questa pratica difficile, lo sappiamo che lo è, che è appunto revenue management. Ovviamente però i successi più interessanti sono stati assegnati a quegli hotel che praticamente abbiamo iniziato a revenue management. Abbiamo visto che magari passavano veramente da un listino dinamico e hanno fatto un lavoro importante anche di ad esempio rivisitazione del proprio sito internet. Molti hotel hanno praticamente dovuto rivedere il proprio sito perché all'interno del sito di fatto ad esempio era contenuta una price list, quindi abbiamo dovuto completamente eliminare la price list, cominciare ad approcciarli ad un concetto appunto di tariffa dinamica e tariffa giornaliera e è stato lì che abbiamo ovviamente poi conseguito risultati più interessanti. Quindi nei primi anni di approccio revenue management, i primi uno o due anni, si calcola un aumento di fatturato più o meno che uscilla dall'8 al 10%. Sì, aggiungiamo che anche portando un po' con la mia esperienza nel mondo Ericsoft, chi si approccia a questa disciplina, chi inizia ad applicare quello che sono il revenue management in maniera corretta non torna più indietro, quindi forse alla fine un qualche beneficio diciamo sicuramente arriva. E fare revenue management oggi, da dove iniziare? Un po' questa domanda ci siamo posti per completare un po' dopo l'introduzione di Nazarena, quelli che potevano essere alcuni aspetti interessanti in questo particolare momento. Naturalmente la prima parte molto importante è sicuramente la raccolta e l'analisi dei dati rispetto a quella che è la situazione attuale della struttura, quindi quali sono i segmenti di mercato, quali sono i nostri paesi di riferimento, i nostri clienti e come hanno reagito alla situazione attuale. Qual è la reputazione della struttura rispetto alle caratteristiche oggi più importanti richieste, quale pulizia, livello di cura del prodotto, come siamo percepiti dall'esterno. Lo storico naturalmente è il grande punto di domanda se sarà applicabile in quello che è il calcolo del revenue. Forse quello sarà da valutare, forse sarà simile in alcuni mesi, luglio e agosto, ma sicuramente ci aiuta comunque a definire quella che è la nostra base di partenza, quella che identificare in questo modo anche quelle che sono e potrebbero essere le aree di miglioramento della nostra struttura. Importante poi per fare revenue è creare quello che è un forecast, quindi una previsione della domanda in date funture, che sarà fondata sull'analisi di quelli che sono i dati storici nei mesi che ci possono essere utili, delle prenotazioni che abbiamo già attualmente in un webbook, della pressione della domanda sulla nostra destinazione, sulla nostra struttura, degli eventi quando torneranno naturalmente ad esserci e quella che è la situazione del nostro mercato di riferimento, come dicevamo prima. Per sviluppare azioni di revenue management è indispensabile creare un forecast, una previsione che analizza tutte queste informazioni in maniera corretta ed attribuisca alle stesse il giusto peso. Il terzo step, come diceva Nazorena, è proprio il prezzo, quindi il pricing. Il nostro obiettivo è quello di creare una corretta tariffazione di partenza e dovremo poi stabilire quelle che sono le condizioni di vendita e relative offerte, tenendo sempre ben presente quella che è la nostra bottom rate. La strategia tariffaria deve tener conto di posizionamento proprio del nostro hotel nel mercato e della reputazione, come dicevamo prima. Puoi Michele magari definire anche questo concetto di bottom rate, che non abbiamo prima definito, però anche questo magari per chi si avvicina adesso a revenue, potrebbe essere qualcosa di non completamente chiaro. Sì, è la somma dei costi variabili che alla fine vanno a definire quella che è la nostra tariffa sotto la quale proprio non possiamo scendere all'interno della nostra struttura, quindi costi variabili, costi fissi, che ci aiuta in questo momento a definire qual è il prezzo minimo di vendita. Distribuzione, scusami, arriviamo al punto della distribuzione, dovremo monitorare, come diceva correttamente Nel Zarena, quelli che sono i canali di vendita in base ai nostri segmenti di mercato. Ogni canale di distribuzione avrà dei comportamenti diversi, quindi dovremo valutare quali azioni portano a dei risultati positivi, quali piattaforme stanno convertendo e quali contratti mantenere e quali rivedere. Naturalmente una parte importante per quanto riguarda revenue management è il controllo. Naturalmente un buon revenue management deve interrogarsi e valutare i risultati della politica stabilita, adeguarlo a cambiare le strategie in corso d'opera, quindi anche per noi non c'è, soprattutto in questo momento, ma non c'è mai stato, diciamo delle regole fisse di variazione di questi prezzi, perché è importante monitorare quelli che sono i risultati di ogni azione. e per fare questo naturalmente sono necessarie capacità di visioni e di analisi per scegliere la politica giusta al momento giusto. La domanda vera che tutti in questo momento ci stiamo un po' ponendo è cosa ci aspetta. Purtroppo nessuno di noi ha la sfera di cristallo, quindi il virus ha fatto capire quanto sia complicato in questo momento fare previsioni e quindi dovremo ipotizzare degli scenari diversi legati ai possibili sviluppi del virus e del conseguente quadro normativo. Scenari che dovremo monitorare e interpretare rapidamente, con l'obiettivo di massimizzare quelli che sono i ricavi nel periodo in cui il virus ci darà tregua. Cosa sappiamo? Cosa sappiamo dallo scorso anno? Naturalmente arriviamo un po' meno impreparati, sappiamo che il mondo è cambiato, ma siamo un pochino più preparati ad affrontarlo. Sappiamo che la gente vuole tornare a viaggiare. Nell'estate del 2020, quando il virus e la normativa ci hanno dato un po' di tregua, il mercato è esploso in alcune destinazioni. Naturalmente l'altra cosa che sappiamo è che il revenue non può stimolare la domanda in periodi di domanda completamente inesistente, ma il 2020 ci ha dimostrato quanto sia valida e applicabile anche nel mezzo di una pandemia questa disciplina. Lo scorso anno, nei periodi dove si è potuto vaggiare in molte destinazioni, la retta media non ha subito grandi cali, anzi è stata addirittura superiore all'anno precedente. La domanda, infatti, in questa fase non è particolarmente sensibile al prezzo. Per la maggior parte delle prenotazioni la booking wino sarà molto ridotta e solo per il 20% dei clienti il prezzo sarà una discriminante. Quindi il consiglio sicuramente in questa fase è quello di non abbassare troppo i prezzi, soprattutto in previsione della stagione estiva. Potremmo anche ipotizzare quelli che sono degli scenari, quindi degli scenari, scusatemi, partita la slide, degli scenari, quelli che potrebbero essere degli scenari positivi, negativi, dove dovremmo adattare in base a questi anche la nostra politica di prezzo. Uno scenario positivo potrebbe essere tracciato da quella che è la campagna di vaccini, potrebbe essere un'immunizzazione un po' più importante, l'aria aperta, chi ha già avuto il virus, chi ha gli anticorpi, quindi una serie di fattori positivi che ci stanno portando all'estate che potrebbero portare un conseguente quadro normativo più positivo che insieme alla voglia di viaggiare, che sicuramente è stata repressa in questi mesi, potrebbe portare ad un ritorno importante della domanda. Adesso ci premeva, fatto questo quadro, andare a farvi vedere quelli che potrebbero essere gli strumenti di supporto a queste analisi. Naturalmente è sempre più frequente la necessità di prendere le decisioni in modo preciso e rapido. Naturalmente per farlo è necessario avere i giusti strumenti. Il revenue management è una disciplina sempre più specializzata, che necessita la combinazione tra capacità umane e tecnologie. Quindi per noi è importante che i nostri revenue management system vadano a ricevere quelli che sono i dati in tempo reale dal gestionale. Quindi tutto quello che succede nel gestionale verrà inviato ai nostri revenue management system. Questi si occupano di elaborare tutti questi dati del gestionale, ma anche dati esterni e suggerirci quello che è il miglior prezzo. Gli RMS del gruppo Zucchetti sono due, sono Rateboard e Libra. L'algoritmo dell'RMS calcola il prezzo ottimale per ogni data sulla base delle variabili che influiscono alla domanda. Quindi i nostri revenue management system vi aiutano nella decisione di questi prezzi in maniera, diciamo, in tutti i momenti della giornata, in tutti i momenti della vostra tariffazione. Naturalmente una volta accettato questo suggerimento tariffario che vi viene dato dai nostri sistemi, il prezzo viene inviato direttamente al vostro gestionale che si occuperà di distribuirlo nei vari canali e anche nella distribuzione online. Questo con l'obiettivo naturalmente di massimizzare il revenue. Andiamo a vedere alcuni aspetti dei nostri revenue management system. Quali dati prendono in considerazione? Partiamo da Rateboard. Rateboard prende in considerazione quelli che sono i dati delle prenotazioni, quelle che sono, per cui, come dicevamo prima, un real time con il gestionale, quelle che sono le tariffe dei vostri competitor. Quindi avete la possibilità di settare all'interno del sistema quello che è un compset di competitor e monitorare anche quello che è l'andamento delle tariffe dei vostri competitor. Rateboard vi permette di gestire e monitorare anche quelli che sono i periodi di vacanza dei vostri mercati di riferimento. Quindi in automatico andremo a scaricare all'interno del sistema quelli che sono i periodi di vacanza e i festivi del vostro mercato di riferimento. L'altro dato importante che portiamo all'interno del sistema è una determinazione della domanda esterna che si basa su quella che è la vostra macro destinazione. Quindi vengono prese in considerazione più di 400 strutture vicino alla vostra e in base al numero di camere in vendita, in base al prezzo di vendita, in base alle strutture aperte, il sistema va a calcolare proprio quella che è una domanda esterna. Nell'algoritmo confuniscono anche quelli che sono dati relativi al meteo e quelli che sono giudizi a social media. Quindi viene presa in considerazione anche quello che è il vostro posizionamento sul mercato. L'obiettivo di Rateboard, oltre a quello di suggerirvi la miglior tariffa possibile, è anche quello di aiutarvi nella comprensione dei meccanismi di revenue management e di facilitarvi proprio questi processi. Ha un'interfazza veramente user friendly e vi aiuta quotidianamente nel suggerimento tariffario, ma anche nella comprensione proprio del mercato e dei vostri segmenti di mercato. L'altro revenue management system del gruppo Libra si basa su alcuni dati simili, come per esempio anche Libra, un real time con il nostro gestionale. Oltre a questo, Libra si basa su quelli che sono sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per andare a suggerirvi quelle che sono le tariffe migliori e andare anche ad apprendere in base al vostro comportamento qual è la politica più corretta e quali azioni hanno portato beneficio alle vostre scelte. In Libra è già stato inserito quello che è il data lake, Zucchetti, che prende in considerazione le ricerche sui principali CRS del gruppo, oltre 10.000 strutture potenzialmente. Stanno già aderendo diversi nostri clienti, queste informazioni ci aiuteranno proprio a fare il forecast che dicevamo prima, quindi a prevedere in maniera preventiva quella che è la domanda in base alle ricerche. Oltre a questo, Libra ci permette di verificare come rate, o anche in questo caso la reputazione online, monitorare anche quelle che sono le promozioni dei nostri competitor su Leota e ci aiuta costantemente a monitorare anche quelle che sono le variazioni dei prezzi della concorrenza, andando anche in Libra a segmentare correttamente quello che è il mercato di riferimento. Anche Libra ha un'interfazza molto semplice, naturalmente ha una struttura che permette di monitorare proprio, come vedete nella slide, anche la pressione della domanda su alcune destinazioni, e un altro aspetto importante è proprio la possibilità di monitorare in tempo reale e anche le ricerche tramite le ricerche dei voli aerei, proprio per verificare quanta richiesta sulla nostra destinazione c'è da eventuali mercati e include anche queste informazioni proprio nell'algoritmo di suggerimento della tariffa. Io, Nazarena, con questo ho un po' chiuso quella che è la presentazione, non so se volevi aggiungere qualcosa. Un'ultima cosa che in realtà hai già detto tu, però mi piaceva di sottolinearla, agli amici albergatori di tenere duro, che cominciamo a vedere la luce alla fine del tunnel, che in effetti il revenue management è importante, ma in questa situazione specifica in realtà non può fare molto, che abbiamo parlato della leva del prezzo, abbiamo detto quanto è importante la leva del prezzo, però ovviamente la leva del prezzo non può fare niente quando non c'è assolutamente domanda di mercato. Teniamo conto che abbassare i nostri prezzi al momento potrebbe essere non la giusta decisione, facciamo un esempio pratico, abbiamo visto che statisticamente un ospite che viene nella nostra struttura è disposto a pagare anno dopo anno per la stessa tipologia di camera, per lo stesso periodo, circa un 5% in più della tariffa che ha pagato l'anno precedente. Questo significa che se io abbasso le mie tariffe, supponiamo del 20%, impiegherò 4 anni a ritornare a quello che è un po' il mio prezzo medio. Questo per dire l'importanza, adesso come adesso, di non fare una politica distruttiva a quelli che sono i miei prezzi medi, al di là di quello che mi sta succedendo intorno. Quindi magari c'è qualche competitor che pensa di fare il furbo, che invece pagherà sul lungo termine lo scotto di aver abbassato i prezzi. Bene, direi che abbiamo quasi rispettato i tempi che ci eravamo prefissati, siamo stati quasi bravi. Speriamo di non avervi annoiato. Bene, lascio i miei riferimenti, se avete qualsiasi necessità, io e Nazarena siamo a disposizione, e quindi se avete delle curiosità o volete fare degli approfondimenti sui nostri sistemi o su alcuni aspetti del webinar che abbiamo trattato oggi, restiamo a disposizione e vi ringraziamo per la pazienza. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. 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 Buon pomeriggio.